Salve a tutti ragazzi, oggi siamo qui in un nuovo unboxing di un pacco di Amazon Andiamo ad unboxare tutto questo pacco e lo andiamo ad aprire Eccolo qui, prendiamo i sigilli di Amazon Ecco qua E ecco qui quello che ho ordinato da Amazon Quindi quello che ho ordinato da Amazon è un microfono Un ottimo microfono Che non costa troppo né troppo poco Che è un microfono per reflex Insomma, serve per registrare Allora andiamo ad aprire Sono sigilli particolari Eccolo qui Ci danno anche una custodietta in velcro Dopodiché ci danno Manualistica di un po' di istruzioni con varie norme Varie certificazioni Comunque un po' di istruzioni Anche per quanto riguarda il risultato come regolarlo Dopodiché ci danno un copre per la polvere E andiamo presso la scatola E alla fine abbiamo il nostro ottimo microfonetto Che si può utilizzare ovviamente In qualsiasi ambito Con ovviamente le prolunghe che ti vendono Ma io lo lascerò sopra la reflex Questo è il nostro microfono Qui ci deve essere anche C'è l'alloggiamento per mettere una batteria Che andremo a mettere Qua c'è un po' di regolazione Di qua ci danno Dei supporti Degli adattatori Qua ci danno Quello per il fruscio E niente Per questa recensione Per questo Unboxing E tutto quanto Vi farò una recensione Per sentire Per sentire un po' La qualità Legitamente La qualità Per sentire un po' E bene Per questo unboxing E tutto quanto E vi facciamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi